Forse non è una questione di opportunità, è una questione di chiedersi ma se non ora, quando? I magistrati di solito parlano in modo felpato, ma se non si parla in modo diretto ora, quando lo si deve fare? Che cosa deve ancora succedere perché vi sia indignazione ed espressione diretta dell'indignazione? Mi sono chiesto se questo intervento a viso aperto potesse essere strumentalizzato, se si potesse dire per televisione, ecco vedete come sono, ebbene lo si dica, lo si dica ma io debbo riprendermi i miei diritti di cittadino e debbo parlare alto, chiaro, forte! che mi sento di morir